Ciao a tutti, sono Tomas Dorpiano, presidente di Fabene Communities e volevo caldamente invitarvi a partecipare alla call for ideas del bando Top Metro Fabene della città metropolitana di Torino, perché è un bando che punta alla creazione e all'accompagnamento di comunità nella città metropolitana, comunità che si prendono cura dei propri territori, comunità che lavorano sull'innovazione, sulla sostenibilità, sulla partecipazione. Ecco, grazie a questo bando l'approccio Fabene viene messo in pratica nei territori della città metropolitana e quindi siete associazioni, enti, istituzioni pubbliche, imprese che vogliono lavorare sull'innovazione sociale e vogliono lavorare per aiutare i propri territori, questo può essere il progetto giusto per voi perché è un progetto che concretizza l'approccio Fabene in questi territori. L'approccio Fabene è un approccio che si prende cura del territorio, che si prende cura dei più fragili ed è un approccio che ha un impatto territoriale perché è radicato territorialmente e punta a ridurre le diseguenze di opportunità partendo da bisogni primari come il cibo per attivare la cittadinanza. Quindi lavora sulla partecipazione, sulla responsabilità, sulla scelta di diventare cittadini attivi per essere protagonisti della propria vita e per fare in modo che i territori si attivino per creare comunità che si prendano cura dei più deboli ma anche dei meno deboli, comunità che si prendano cura di tutti, secondo le proprie competenze, le proprie scelte e i propri desideri. Quindi vi invito ancora caldamente appunto a partecipare alla Call for Ideas del Bando Top Metro Fabene.